La natura suona da sempre. Io l'ho ascoltata e la restituisco così, come la sento nel cuore. Ti dà dei ritmi, un'energia spirituale e ti offre un'armonia che è già perfetta di per sé e domanda solo di parlarti. I ritmi della terra che mi ha cresciuto per secoli hanno scandito la vita della nostra gente, che è legata alla natura da un rapporto diretto, quasi cosmico, fatto di amore, di rispetto, di suono e di silenzio arcaico. E questo è tutto quello che ha plasmato la mia identità. È una ricchezza che da sempre porto in giro per il mondo e sento che il pubblico ne apprezza l'autenticità. Cerco di creare armonia tra la musica e la mia storia. Il mio linguaggio espressivo, il mio profondo più vero, legati da un unico filo, orgoglioso, robusto, forte. Miniature sono tutti pezzi di un'unica immagine che è l'essenza del mio essere musicista e anche uomo. Identità, suono, silenzio. Il mio linguaggio è un'unica immagine